Ci sono delle storie, delle inchieste che ogni tanto ritornano come i grandi amori e siamo tornati ad Adelfia, a casa Caterina. Molti di voi lo ricorderanno, vi abbiamo raccontato ai tempi le lamentele degli operatori, vi abbiamo raccontato di come gli anziani venissero trattati, delle beghe societarie, abbiamo fatto dei video con i vecchi amministratori che non volevano risponderci, insomma questa storia è passata alla storia di rete e invece no, questa storia proprio in questi giorni sta tornando di grande attualità. Il proprietario della struttura, che nulla ha a che fare con la gestione degli anziani, i muri, per intenderci e recentemente hai postato lo sfratto e sei stato accusato di non dire il vero. Sì, bravissimo, di non dire il vero, quindi adesso smentiamo e ci metti la faccia, ci mancherebbe altro. Partiamo dalle cose più materiali, più specie. Quanti soldi avanzi dal 2021 rispetto alle gestioni che si sono succedute? Alternate, 520 mila euro. Quindi il 22, quando qui è previsto lo sfratto, quale sarà la tua posizione, anche e soprattutto in funzione degli anziani che sono ricoverati? Tutte le persone che possono già trovare un'altra sistemazione in altre strutture, si devono dare da fare. Poi il resto vedrà l'altro come trasportarli, perché se tu che sei all'interno con 80 posti letto e sei pieno, quindi incassi, se fai 80 posti per 1.800 euro che farai pagare, sono 144 mila euro, più o meno. E non paghi nemmeno una lira, da quando sei entrato nemmeno a me, cioè zero, non puoi fare l'imprenditore con i soldi degli altri. Intanto risponderanno? Beh, speriamo. Senza sapere chi sono. Ne ve l'hanno vista e mai conosciuta. Quello grande e quello piccolo, proprio la fiducia. Andiamo. La vedo tranquilla, direttore. La vedo tranquilla, ma il fatto, l'abbiamo detto prima con il signor Pepe, Lucio Pepe, fuori, l'abbiamo intervistato Lucio Pepe prima, il proprietario dell'immobile. Io vorrei che lei ci dicesse, commentasse con noi, quel post che è stato pubblicato, poi è stato cancellato sulla pagina Delfia Senza Censura su Facebook. In questo modo, me l'hanno fatto vedere. Il 22 ottobre, qua c'è un problema di tenuta, nel senso che gli anziani dovrebbero trovare un posto, dovrebbero iniziare anche preventivamente a trovare un posto dove andare. Allora, per dire, per dire, per dirla tutta, se parliamo proprio del post, indipendentemente da chi l'ha scritto, mi sa tanto di un post, di uno psicopatico. Attento, perché quello che dice è grave. È giusto, mi assumo le responsabilità, perché dal punto di vista amministrativo tutto quello che si vuole, ma chi usa gli anziani. Mi perdoni, lei dice che a maggior ragione è più grave il fatto che lo abbia scritto il proprietario dell'immobile. A maggior ragione, se quel pepe lucio, può essere pure un profilo falso, io non so. Guardi, signor Pepe, che lo chiediamo se lui? Signor Pepe, è lei che ha pubblicato quel post su Adelfia senza censura? Quindi non è un mitomane, uno psicopatico che... No, c'è la mia foto sopra, non ho nascosto nulla. Quindi è quello il senso. Allora, direttore, se il dottor Pepe dice che il post è suo. Allora, per la parte relativa, perché per la parte amministrativa, cioè se il signor Pepe ha qualcosa da dire alla società o da ottenere dalla società, ci sono i canali legali, i canali amministrativi, cioè ha tutte le carte in regola per poter chiedere i suoi diritti. Il problema del signor Pepe, quindi, il signor Pepe è uno psicopatico quando parla degli anziani, degli anziani. Se è uno psicopatico, perché se metti gli anziani insieme, devi prima rivederti i regolamenti e poi devi sapere che gli anziani è una categoria protetta. Dove vi, infatti... Però non voglio parlare di amministrativi. No, 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 io... Ha messo in mezzo... Magari il mio post, può darsi l'avevo scritto male, che poi non lo scrivo... Apriamo solo il cancer, sembra... È una cosa brutta, sembra... Se lei fa la parte del direttore qua, non lo so. Non ho scritto sul post... Attenzione, lei è il direttore formale, anche sulla carta. Sulla carta? Lei è il direttore... Devo dirlo a te. Cioè, non capire chi sei. Tu per me chi sei. E non mi interessa a me della tua proprietà, perché io mi occupo di gestione... Se lei si presenta come direttore, io prendo atto... Della gestione... Di casa Caterina, che faccio da 30 anni e che ho fatto prima, dal 2012 l'ho aperta io. Quindi quello che facevo all'epoca... Sta facendo adesso. Sta facendo di nuovo, dal 16 luglio. Di nuovo. Quindi ha ripreso dal 16 luglio, da quando la società... Ha comprato le DMC Holding, la nuova gestione, che si trova ora, che a lui non interessa. Giustamente ce l'hanno piena, prendono 144 mila euro al mese... Questo però... Per ora... Per ora stiamo dicendo... Parliamo degli anziani. Io chiedo scusa, ufficialmente se ho scritto male il post, ma non ho scritto una bugia. No, non devi mettere gli anziani, tutto qui, poi tu hai tutti i diritti. Ma io sto finendo di parlare. Ma faccio direttore un attimo solo. Un uragano si sta battendo. Se ho impostato male la mia informazione... Attenzione. No, siccome devi stare attento, direttore, devi stare attento, sembra una... Nel senso... Nel senso legale. Legale, legale. Tino, stava finendo di parlare. Non ho scritto... Eh, giravoce ho scritto. Io ho avuto... Ho avuto... Facciamolo parlare, facciamolo parlare però, direttore. Facciamolo finire il disco. Io, giustamente, non ho scritto una bugia. Ah, sì, perché... No, non vuole entrare, non vuole entrare. Ancora vengo denunciato per violazione di domicilio. No, 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 sto io qua, non vieni denunciato. Ok, Antonio, va bene. Allora, stavo dicendo... Stavo dicendo, chiedo scusa, ho impostato male il post, però era un annuncio documentato e te l'ho fatto leggere. Assolutamente. Anzi, per giunta... Antonio, fammi finire di parlare. Ritirato da te, Antonio Novelli, sta scritto... Io ho ritirato... Antonio, dove sta la casa? Lo sfratto, lo sfratto del 22... Allora, lei riconosce... Io, io, di fatti amministrativi... Allora, però, il 22 ottobre, qua, che succede? Il 22 ottobre, lavoreremo... Per non farli uscire. Per Natà, no, per non farli uscire. Vedi, vedi, vedi... È il vostro scudo, gli anziani. Non ammetto, non ammetto questo... Io sono psicopatico, la gente sa chi sono io e sa chi sei tu. Vedi, cioè, però, attenzione, io non vorrei... Che vuoi dire? Tu fai rispondere alle cartelle. No, per dire, sappiamo che il 22... Che cosa devo rispondere? Sappiamo che il 22... Io ti sto dicendo, sappiamo chi sei io e sappiamo chi sei tu, cioè, dobbiamo litigare... Io non voglio... No, no, voglio... Tu hai parlato di anziani ed è quello che mi competa. Gli anziani stanno benissimo, stiamo lavorando bene sugli anziani e il 22 ottobre... Allora... Agli anziani non succede niente. Se poi lui vuole dire delle cose strane, delle cose... Allora, un attimo solo. Alla rimedicazione dei soldi che il dottor Pepe dice di avanzare, 540 mila euro di soldi... No, io dico, a quello, la società che detiene, avete avuto modo di parlare, avete avuto modo di parlare... Io so, io so... Ce l'avete fatta una proposta? Io so che la società ufficialmente l'ha voluto incontrare, lui ha incontrato... Ma gli ha fatto una proposta concreta? Scritta, scritta e con PEC. Fatta leggere, Antonio. Scritta e con PEC. Quale? Quella dei 20 mila euro? È andato oltre. E 60 mila euro, praticamente, se non lo sai, sta in fallimento in atto. Noi stiamo parlando di un allarme sociale... Certo, è un allarme sociale. Del 22, del 22. No, l'allarme sociale è il tuo dei soldi. Antonio, non è un allarme sociale. L'allarme sociale è degli anziani. E la realtà, ci avete lo sfratto, quindi... Ci avete lo sfratto. Io ho lo sfratto da direttore. C'è uno sfratto? C'è uno sfratto? Sì, ma da direttore? Lo sfratto è del 25... Lo sfratto è del 16 luglio di quest'anno o è vecchio? No, il 16 luglio è vecchio. No. No, no. Lei dice, è relativo ad una società... Alla prima società o a questa società che è arrivata dal 16 luglio? L'attuale società, chi ha comprato? Fatelo dire. Cosa ha comprato l'attuale società? Che cosa ha comprato? Ha comprato tutto. La Nicola... Ha comprato tutto. Benissimo. Ma tu il pallimento l'hai fatto l'anno scorso ad altre società? E perché non hai fatto il posto il 14 luglio? E che c'entra questo? Perché non hai fatto il posto il 14 luglio? E la Nicola Sessarelli? Cosa vuole dire? Che c'è una combutta con i vecchi? No, non lo consente. Questo non glielo consente. No, no, io non lo dico. Salto le carte. Questo non glielo consente. I tempi. Cioè, lei ha a che fare qualcosa con il dottor Carbonara che prima amministrava questa struttura? Lei ha a che fare con il dottor Carbonara? A che fare? Nel senso che, voglio dire, c'è qualcosa di quello... Lo conosco perché faceva prima l'amministratore, ora c'è Paolo Schettino. Che non lo conosco. Quando l'ha rilevato, quando l'ha rilevato, il 2021, sui suoi profili consigliava la struttura. È chiaro? Perfetto. Il 2021 consigliava la struttura. Siamo entrati noi il 16 luglio. No, prima di voi c'era Chiechi, spiega. No, prima stavo a Carbonara. Carbonara. Chiechi e siete entrati voi con Arroganza. Il 16. Con Arroganza. Vedi, Arroganza. Sono venuti a doverlo. Abbiamo preso... Hai scritto anche tu, visto che parli di post, ti ho dato un post, l'hai fatto leggere. Assolutamente, il post l'ho già letto. Che il mio caro amico Michele Schettino... No, 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 un attimo, un attimo, un attimo, un attimo però, aspetta un attimo. Allora, lei sta tirando in ballo il signor Michele Schettino. Che centrerebbe Michele Schettino con questa storia? Sì, facciamo passare il dottore. No, io faccio le fotografie dippertutto, pur con Antonio mi faccio la fotografia. No, voglio sapere che cosa c'entra, qual è la sua idea, che idea si è fatta rispetto alla posizione di questo Michele Schettino, perché tirandolo in ballo... Che può essere denunciato, perché non... Io, come fatti societari, non conosco Michele Schettino sul... Cioè, chi mi assume... Però si fa dei post... Si fa la foto insieme... La fotografia, le fotografie... Prova a prendere, se tu vedi il mio profilo... Qui dentro... Se tu vedi il mio profilo... Se ti vedi a prendere... Se tu vedi il mio profilo... Il mio profilo, tu non prendi nessuno... No, 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 non... Cioè, ma fa la tiazza, cioè, stai diventando proprio... No, Antonio, stiamo parlando... Lui è importante... Ascoltami, io faccio dei post... Non ti nervosico... Anche io non... Io sto tranquillo... Io sto tranquillo... Il mio lavoro l'ho fatto... Ho raddoppiato... Da 40 anziani... Sono adottato... Quindi, da quando state... Non pagate un euro... Ti rendi conto? Non pagate un euro... Aspetta, però l'ha fatto la proposta di 20.000 euro... Da quanto stanno? E che dobbiamo fare? Ma noi stiamo parlando... Che dobbiamo fare? Un concordato fallimentare, Antonio... E' un bè, cerca il concordato... Dove devo dimostrare al giudice... Te lo ribadisco... E' un bè, il giudice... Perché ti... Con carte... Che sono... Sanno... O se imparare all'azienda... Portarla avanti... Per non fallire... Invece non mi hanno dato un euro... Da quando sono in grado... Sai qual era l'accordo? Con i miei soldi... E firmava adesso vicino ad Antonio... Con i miei soldi stessi... Stato pronto... Stato pronto... Vieni adesso dentro... E firmi il contratto... No, no, no... Firma sugli arretrati... E sul fitto... Firma adesso... Vieni... Ci abbiamo qua le carte... Sugli arretrati... Se tu è vero... Sul fitto e sugli arretrati... Vieni qua... Quanti volete dare di arretrato al... Non lo... È un fatto di concordato... Quindi c'è prevista... No, no... Vieni, vieni... È prevista anche... Ma che vuole questo? Ma... Allora... Tu stai dicendo bugie... Io bugie... Sì... Vieni dentro... Vieni dentro... Non lo fa Antonio... Adonaloco... Per carità... Non lo mettete in mezzo a questa cosa... Io già sto parlando... Fuori... Fuori... A me interessa... A me interessa sapere... Se evidentemente ci sono... A me interessa sapere... Ci sono in questa compagina societaria... Dei ruoli ombra... A me interessa... Evidentemente... A me interessa... In questa circostanza... Perciò ho accettato l'intervista... Io... Ovviamente... Non sapevamo... Che... Il proprietario delle mura... Per quando... Sia giusto che lui... Abbi compensi... E con me... Gli ha sempre avuti... Sempre... Lascia stare gli anziani... Che in queste strutture... Non le hai messi nel posto... Che se ne devono andare... Tu hai creato un allarme... Io sono da quattro giorni... A rispondere alle anziane... Vergognati... Ma c'è il 23... Vergognati... Vergognati il posto... Non ho sbagliato... Tu ti devi vergognare... Ma il posto... Ho chiesto scusa del posto... No... Chiedimi scusa... Scusa a tutti gli anziani e le famiglie... Chiedi scusa a tutti... Mi ha anche detto prima... Perché noi ci siamo sentiti prima... Mi ha detto... Mi ha detto che è un avvertimento ai parenti... Un avvertimento... Un avvertimento ai parenti... Un avvertimento... È 30 anni che li cura... Nel senso che... Siccome il 22... C'è lo sfratto... C'è un provvedimento... Se non c'è lo sfratto... Che cosa fa Pepe? Antonio... Ma sta lo sfratto... Eh non lo so... Lo sfratto c'è... C'è... No... Se non vengono buttati... E vengono rimandati per fatti burograti... E vengono a aprire la ASL con le autobulanze... A togliere da dentro... Con la forza... Ma questo è un pa... Ma scusami... Antonio... No... Ci sono dei regolamenti... Con la forza per portarli dove? A casa? No... Verranno collocati in altre strutture... Come prevede la legge... Quindi... Qualora ci fosse... È tutta premeditazione... Cioè... Mi stai cambiando delle accuse... Pesanti... Uno che ti dice... Oggi... Hai detto uno sfratto... Io sto ascoltando... Io sto ascoltando... C'è uno sfratto... Quindi parenti hanno... Piano piano... Sì... Pura qualcuno che è autosufficiente... Magari... A trovare altre collocazioni... E quelli che non sono autosufficienti... Ma... Quello lo so che si fa la legge... Non sono io a decidere... Anto... Questa... Cioè... Se vogliamo fare un dibattito... No... Ci mettiamo la parte... Perché il signor Lucio Pepe... È confuso... Confuso... Chiaro? Per una mera questione economica... Tu... Mi devi dire... Uno... Lei dentro casa sua... Se non la pagano... Che cosa farebbe? Dal 2021... Chi stava? A Red... Chi stava? No... Voi siete entrati... Scusa... Voi... Non io... Vabbè... Vabbè... Valla a chiamare... Chi è che sta dentro... Chi? A me chiamare la dottore Sastano... Eh perché non gradi... Ti sei incontrato l'altro giorno... La dottore Sastano era proprietaria... Sì... Dalla DMC Holding... Proprietaria della Nicola... Aspetta... Aspetta... Sì... La nuova proprietaria... Ti sei incontrato una settimana fa... E qual è stato il risultato di questo incontrato? Ti ho detto tutti i soldi... Ti ho detto tutti i soldi... Ti faccio leggere la PEC Antonio... Poi la fai vedere in diretta... Cioè... Qual era l'accordo? Qual è l'accordo che ha rifiutato? Qual è l'accordo? Voi lo sapete... Qual è l'accordo che ha rifiutato? Qual è l'accordo? Qual è l'accordo? I miei classici 60 mila euro... Che da quando stanno loro là dentro... Le mensilità... Le mensilità... Le ho pagate una lira... È per il pregresso? Scrivi sopra il ghiaccio... Scrivi sopra il ghiaccio... In che senso? Non c'era una cifra... Non c'era... Allora... A lei risulta che c'è un fallimento... Antonio... C'è un fallimento... E col concordato è chiaro che non possono essere dati dei soldi... Volendo si può fare... Io potrei uscire... Per dire... Dal cosa? Lui dice... Io potrei uscire dal fallimento... Benissimo... Benissimo... Tutti i soldi... Benissimo... 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 Ora stiamo a fare... Ed è bello così... Vivo la diretta... Rendolo pubblico... No... Rendolo pubblico... Le autorità si rendono conto di... No, no, no... Ascolta... Che situazione è precisa all'interno? Ascolta... La situazione è all'interno della struttura... Se ne vi consentirà poi vorrei andare a vedere... All'interno della società... No... All'interno... No... All'interno della struttura la situazione è fluida... Gli anziani stanno bene... E vengono curati bene... Rispetto al 15 luglio che abbiamo trovato una situazione... Ma non voglio denigrare il passato... Vabbè... Io sono... Io vanno... Amichevolmente Antonio... Così... Ma... Voci di corridoio... Andami per... Vedi... Sentiamo... Ma sono cos'è... I dipendenti vengono pagati... I dipendenti... Bra... Non vengono pagati... Allora dopo... La quidicina... La quattro di cesbici... Non vengono... Le malattie... Dopo tutto... Tutto... Vedi... Che c'entrano... Ascolta... Volentieri... Ascolta... Che c'entra... Che c'entra... Che c'entra... Il sindacato è stato sempre... Che c'entra... Con la questione Pepe... Allora... Un po' l'idea... Un po' l'idea... Che magari stiate missiando fave e foglie... C'è... Però... Da parte di... Io sono uscito... Per discutere... Delle condizioni... Del fatto delle anziane... E lo so... Tutto il resto... No... Allora... Allora... Chiedi scusa ai familiari... No... L'ha già fatto... L'ha già fatto... Sì... Vuoi che lo dico la quarta... E... Diggli... Diggli... Che il 22 non succede niente... No... Non posso dire una cosa del genere... Antonio... Ti assumo la responsabilità... C'è uno spratto... C'è uno spratto... Passa la per lui e lo spratto... C'è uno spratto... C'è uno spratto... Alle ore 10... 22 a l'ore 10... E lo sai che devi stare anche tu... Alla società... Figuriamcelo... Alla società... Alla società... La società nuova che sta qua... Diciamo... Ha la chiusura di Polignano... Sant'Anna... No... No... Allora... Vedi... Vedi... Adesso... Adesso sta... Però... Ognuno si prende la responsabilità di quello che dice... Allora... Io te lo dico... Ma è la stessa società... Lei si sta... Sei sicuro? Sei sicuro? Sono dei gestori... No... 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 Sei sicuro? Sicuro no... Vedi... Però il giorno 22 sta anche lo sfratto là... Questo è sicuro... Lo sfratto o la chiusura? La chiusura proprio... La chiusura... Scusa... Che c'entra Polignano... E lui dice che c'è la stessa società... E quindi... Eh vabbè... Ti prendi la responsabilità... Ti prendi la responsabilità di quello che dici... Ognuno... A me... Antone... Dottore... No no... Dottore... Io... Sto qui soltanto per farvi dire le vostre posizioni... Io non intervengo in nessun modo in questa cosa... Allora... Se il... Se il... Io ribadisco... Io ribadisco... Io ho le mie convinzioni... Di qua il 22 ottobre non succede proprio niente... Però ribadisco... Sì... Che chi ha fatto quel messaggio procurando allarme sociale... Lui dice che è uno psicopatico... È uno psicopatico... Sì... Cioè lo chiarisco... Chiedo scusa umilmente se ho fatto un allarme... Eh... Generale... Ma purtroppo non ho detto una falsità... Ho detto la vera realtà... Che gli anziani vanno via... Io sono truffato... Io non ho mai detto che sei truffatore... No no... Io oggi... Oggi sto mantenendo... L'ho detto tutto... Ascolta... Ascolta... Io oggi sto mantenendo... Lo faremo dopo un mese... No io adesso sto mantenendo il titanico... Quindi parenti... E sto aspettando... Evidentemente... Portino via... Che affondi a me... Senti a me... Senti a me... In altre strutture... Che è meglio... Senti a me... Che non ne stanno mangi... Stanno per fallire anche a fine mese... Tra l'altro... Fallire la società... Sì... Guarda... Il dottor Pepe sta dicendo cose... Sanno le votazioni in atto... Sì... Sanno le votazioni in atto... E tu con tutte queste certezze... Sì... Ma perché ci sono già scambi di querere... Le reciproche fra voi... Quelli al momento non... Ma tu con tutte queste certezze... Ti vai a prendere la briga... Di scrivere un post... Giravoce... Li stai a dire così bello... Volevo renderlo poco... E potevi fare... Volevo renderlo poco... E potevi fare pure un'intervista da solo... Questo è stato un errore... Questo è stato un errore... Devo dire... Io... Io... Intanto sono uscito... Per quel finale... Se non stavo a quel finale... Non è compatibile... Non uscivi perché... Non mi risulta... Sono queste cose... Non dovrei venire a dottoressa Stano... Allora noi adesso... Invece... Siccome avete chiamato in causa altre persone... È la proprietaria dottoressa Stano... Ok... Dunque... Chiediamo a Schettino... Alla dottoressa Stano... Ma a chiunque... Facciamo l'incontro... A chiunque... Se volessero dire qualcosa rispetto a questa scenda... Possono farlo tranquillamente... Io ribadisco... Per quello che mi riguarda... Schettino è un suo conoscente... Noi... Ma come fa... Le foto sono evidenti... No... È un suo conoscente... Da quel punto di vista... Da quel punto di vista... Insocciuto pure a Milano... Con Schettino... Fino a quando... È una persona libera... È un mio conoscente... Qui lo conosce anche tu... No... Tu hai trattato... È un vostro conoscente... No... Tu ti sei incontrato... Parecchie volte con Schettino... E forse per quello... No... Una decina di volte... No... No... Una decina di volte... E ti sei incontrato... Pure prima... Quando Berlino ha venduto la struttura... Ti sei incontrato... Non lo so... Eh... Non lo so... Allora... Infatti stanno diventando ben oltre... Eh... Basta così... Quindi io direi... E se qualcun altro... Io ho accettato... Noi... Il 22 intanto ci saremo anche noi... Io... Ma... Se qualcuno delle persone nominate... Impropriamente... A me non interessa... Avesse voglia di dire la sua... Quinto potere è a completa disposizione... A me non mi interessa... Non mi interessa... Anche perché sono cose abbastanza pesanti... Antonio... Tu mi hai detto... Mi permetti che ho fatto leggere le carte io... Io ho letto... Ho sfratto... Ho letto tutto... Io ho finito... Io... Mi sapevo piacere... Grazie... Casualmente l'ho incontrato... No... Sponca a fare la posta... Perché stavo... Non potevo sperare di meglio... Non potevo... Anche perché... Quella è anche sua... Quell'altra su qui... Non potevo sperare di meno... Ma l'altro... Tutto per Antonio Ruvielli... In che senso? In che senso? Per Antonio Ruvielli non c'entra niente... In questo... Non voglio fare... Basta... 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 Gli anziani... Come... Pretesto... Come pretesto... Che... Fanno solamente allarmismo sociale... E non sanno i regolamenti... Stop... Il resto... Tutti i diritti... Che può avere... Signor Pepe... O l'altro... Antonio... Per ora... E solo per ora... Sono scudo gli anziani... Per non uscire da fuori... Sono scudo gli anziani... Per non uscire da fuori... A me sono scudo... Pulisci la bocca... Lucio... Ma... Lucio... Vai a far la spesa... Adesso... Vai a far la spesa... Che ti ha messo... Ti ha messo... Il bene il tuo padre... Dai... Aia... Dai dai... Vai a far la spesa... Dai... Che tu solo quello... Fai la mattina... Dai... Per ora... E solo per ora... E quasi tutto...